Ancora con Coccianelli facciamo il punto su questa settimana che è appena iniziata. Chiaramente dobbiamo prima di tutto parlare della sconfitta a Prestano. Poteva starci ma chiaramente mi sembra che regalare la prestazione non positiva agli avversari sarebbe stato meglio giocare meglio. Sì sicuramente potevamo fare meglio. Non abbiamo proprio regalato la partita perché loro hanno difeso bene e se la sono guadagnata. Però potevamo fare molto meglio. Quello che rimane e che da rammarico sono i 10 diri sbagliati dai 6 metri. Non dico di metterli tutti dentro perché si sa quando hai un portiere come San Paolo davanti è difficile. Però anche la metà di questi gol messi dentro ci facevano vincere la partita probabilmente. Quindi dovevamo migliorare un pochettino, essere un po' più precisi e essere un po' più intelligenti soprattutto al tiro. Abbiamo avuto problemi in attacco sicuramente soprattutto nel primo tempo. Nell'intervallo abbiamo messo a posto qualcosa e abbiamo fatto un secondo tempo molto buono. Alla pari loro abbiamo fatto qualcosa in più di loro nel secondo tempo. Abbiamo segnato 12 gol, ne abbiamo presi 11. Insomma la reazione c'è stata. Abbiamo avuto la pala del meno 3, sciupata in contropiede. Forse potevamo riaprire la partita. Però nulla da dire sull'impegno e sulla voglia che ci hanno messo come sempre. Certo anche perché teniamo conto che guardando il campionato il Bologna pareggia a fondi quindi è tutto a dire insomma no? Sì ma adesso secondo me ci saranno molte sorprese da adesso fino alla fine perché ci saranno le squadre diciamo di fondo classifica compreso noi insomma quelli che lottano per la salvezza che possono incontrare squadre un po' meno motivate perché una volta completato il quadro dei playoff che è quasi delineato e si incontrano squadre che non hanno nulla più da dire come faccio esempio di Siena come Bressanone come Fondi probabilmente insomma le squadre di coda possono fare risultati quindi tutto può succedere ancora. Noi non stiamo lì a guardare dietro ma cerchiamo di guardare chi ci sta avanti e cerchiamo di raggiungerlo tutto qua. Migliorare la classifica attuale che si ha insomma no? Sì sì abbiamo un obiettivo noi lotteremo per questo obiettivo che è quello di fare i più punti possibili e cercare di arrivare tra le prime otto del campionato perché è fattibile il secondo calendario dipende da noi. Sicuramente se si partiva con un altro roster all'inizio del campionato chiaramente stavamo parlando di un'altra classifica però sono le stagioni che vanno così quindi bisogna chiaramente accettarlo. Sì sì non si può mai dire quello che succederà durante l'anno quindi non siamo qui a piangerci addosso per questo abbiamo l'abbiamo dimostrato abbiamo subito voltato pagina con alcuni giocatori ne abbiamo presi altri ci abbiamo messo un po' per inserirli però diciamo che la cosa che più mi fa piacere è la mentalità che hanno questi ragazzi perché quando a fine partita li vedi nello spogliatoio a Pressano distrutti come se avessimo perso la gara salvezza in casa col Cingoli vuol dire che siamo sulla strada giusta vuol dire che ci crediamo veramente in questo tipo di partite cosa che non tutte le squadre hanno perché ci sono squadre che si accontentano di andarsi a giocare 20 minuti a Pressano ma non è il caso nostro noi ci teniamo a provare a vincerle tutte e quindi quando questo non succede i ragazzi sono ammaricati poi capita che sono addirittura io a doverli consolare quindi questo la dice tutta sulla serietà di questi giocatori poi ti vince allora facciamo il punto della settimana chiaramente adesso stiamo partendo al momento situazione della tua squadra in vista di questo match ricordiamolo si giocherà in casa benevendo sabato prossimo si ci dobbiamo ancora incontrare però sicuramente conoscendoli saranno già carichi per per questa partita contro quelli che poi sono i campioni d'italia in carica a loro fasano viene da una sconfitta un po pesante diciamo conversano perché era un derby per loro era molto importante ed era una tappa forse decisiva per cercare di raggiungere poi cassano quindi hanno perso questa gara sono sicuramente non con il morale alle stelle però hanno ancora possibilità di agguantare il quarto posto quindi verranno sicuramente per fare un'ottima partita per vincerla per noi sarà molto difficile abbiamo una situazione in infermeria un po così con di giulio che difficilmente potrà scendere in campo insomma lui era è il miglior marcatore nostro quindi dobbiamo sopperire alla sua assenza in qualche modo lui ha avuto una distorsione al ginocchio dobbiamo vedere in settimana come sta ma sarà molto difficile vederlo abbiamo recuperato lito marino cascone in fase di recupero però dobbiamo sicuramente trovare qualche alternativa sul lato destro parliamo invece della della dell'ander 19 c'è stata la vittoria di misura a fondo la settimana scorsa e adesso che succede sì adesso abbiamo una partita in settimana contro il civile vecchia la squadra serie b di civile vecchia andiamo fuori casa e poi termineremo in casa con il donatello roma siamo a buon punto insomma siamo diciamo imbattuti penso nelle ultime cinque sei partite stiamo giocando bene peccato perché mercoledì probabilmente è un orario un po strano giocare alle tre e mezza civile vecchia comporta far perdere scuola alcuni ragazzi la maggior parte non non potranno perdere la scuola quindi andremo lì un po rimaneggiati ma non fa niente faranno un'esperienza quelli che giocano di meno ecco appunto anche perché chiaramente hanno mancato dei mancato di giocatori poter mancheranno alcuni senior diciamo così quelle più grandi farà giocare questi che ho visto già domenica scorsa in casa i più giovani quindi esperienza in più perché comunque non è una fase di campionato in po con cui ti serve tutti quanti quelli più esperti sì sì però quello il rammarico è proprio che in questo tipo di partita perché è una delle partite più difficili della una delle squadre più forti di questo girone era buono anche giocarla con tutti i senior per per i senior con tutti quelli un po più grandi un po più esperti proprio per rodare un po la squadra al completo cosa che siamo riusciti a fare poco durante l'anno proprio in vista poi degli scontri contro l'anzara dell'ana insomma le squadre campane era un buon banco di prova però abbiamo ancora un paio di mesi per rodare questa situazione quindi non è drammatico insomma lo sai già che cosa vale quindi chiaramente importante appunto far fare esperienza credo anche questi ragazzi gli senior come li vogliamo chiamare li conosci già chiaramente devi cercare di conoscere questi ragazzotti no sì sì loro stanno prendendo confidenza col campo tra tutti insomma c'è parlo di maggio che gioca da quattro mesi a palla a mano un mancino che comunque non ha paura e già comincia a fare gol anche importanti come ha fatto a fondi ma come lui anche cretella darallo ricciuti insomma sono tutti ragazzi balletta ragazzi che possono avere anche un futuro se si allenano con continuità e se credono in quello che facciamo se riusciremo ad avere una struttura che funziona bene e soprattutto sì in bocca al grazie 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 grazie